Un sorriso, occhi scintillanti di gioia, gli occhi di chi per qualche minuto riesce a dimenticare le macchine accese per la dialisi o il fastidio delle flebo che lentamente scorrono nelle vene. Bambine e bambine nel reparto di nefrologia e gastroenterologia dell'ospedale Regina Margherita di Torino hanno potuto riabbracciare i dolcissimi cani del progetto Amici a quattro zampe, messo in piedi dalla Fondazione Forma che da anni si occupa del benessere dei piccoli pazienti dell'ospedale infantile. Il progetto di pet therapy in corsia coinvolge anche i piccoli pazienti della neuropsichiatria e degli altri reparti che a breve saranno autorizzati ad accogliere Selli, Spuma, Zedi e Camilla, cani dal cuore grande e dal temperamento mite e accogliente dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Noi siamo partiti nel 2012 dove l'obiettivo principale era proprio quello di fare in modo che il bambino avesse un ricordo positivo dell'ospedale. Io in modo particolare adoro i cani e mi rendo conto di quanto migliorino la vita delle persone, quindi mi sono proprio detta ma se funzionano ovunque perché non in ospedale? Quindi abbiamo cominciato a farlo. Penso che siano fondamentali, lo dimostrano, lo vediamo, li aspettano i bambini e quindi abbiamo visto che poi il bambino torna, se ha avuto esperienze positive, quando torna più delle volte ci chiedono ma i cani ci sono? Quindi questa cosa per noi è importante e fondamentale. Il progetto nell'ambito della neuropsichiatria, nello specifico, prevede attività assistite con animali, cicli di sessioni in piccoli gruppi, in presenza di un'infermiera ed un medico specializzando, con la supervisione del neuropsichiatra infantile di riferimento. In particolare questa attività è un valore aggiunto nel percorso di cura multidisciplinare dei ragazzi con disturbi d'ansia, dell'umore, ritiro sociale e disturbi del comportamento alimentare. Si cerca di ricostruire la normalità, soprattutto per le malattie lunghe, per le malattie croniche, per le quali i nostri bambini e adolescenti devono stare molto tempo con noi. E gli animali, in particolare i cani, sono parte integrante di molti nuclei familiari, sono parte integrante del tempo libero dei nostri pazienti e come tale possono dare un grosso aiuto anche durante il trattamento terapeutico. E credo che le immagini che vediamo nella quotidianità, da quando è ripresa la terapia in interno del nostro ospedale, ne siano proprio una conferma. La Direzione Sanitaria ed il Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, Regina Margherita, diretto dalla professoressa Franca Fagioli, hanno redatto un progetto che prevede percorsi dedicati per gli animali e specifiche norme igienico-sanitarie, l'inottemperanza alle indicazioni regionali e nazionali. La fondazione, fin da quando è nata, ha cercato di rendere l'ospedale un luogo a misura di bambino. E questo progetto sposa in pieno questo concetto e questo obiettivo. Lo si vede sia tra i bambini, tra i genitori e anche tra il personale ospedaliero, perché il fatto di fare entrare i cani e di poterli coccolare dà serenità e tranquillità. Spuma, selli, zedi sono cani speciali perché sono cani abituati ad entrare in contatto con pazienti e devo dire anche un merito importante va agli operatori che sono insieme a loro e che li accompagnano in queste attività al letto del paziente. Una novità assoluta è invece la pet therapy anche per gli operatori sanitari. Abbiamo deciso di sperimentare anche l'approccio sugli operatori, perché dopo il covid comunque il personale è provato, il personale è stanco e quindi abbiamo detto perché non anche qui cercare di sperimentare questo progetto nuovo e vedremo come andrà.